La CGL di Salerno denuncia il comportamento antisindacale perpetrato da parte dei vertici del Coris A4 e dell'Aiele S.P.A. Infatti, nonostante la CGL ha da sempre dichiarato ai tavoli sindacali a cui ha partecipato la propria disponibilità a confrontarsi e a dare il proprio contributo, chiedendo il rispetto delle norme vigenti e delle procedure, si registra da parte dei vertici del Consorzio e dell'Aiele un ostinato comportamento volto a non fornire le garanzie che la legge gli impone di dare. Si legge così in una nota diffusa questa mattina dalla CGL. Innanzitutto, nessuna comunicazione è mai pervenuta a questa organizzazione sindacale del trasferimento dei lavoratori dal Coris A4 e dell'Aiele, anche se Coris A4 e dell'Aiele dichiarano di aver provveduto a trasferire il ramo d'azienda con tanto di convenzione nel mese di marzo 2014. Eppure, la legge a tal proposito è chiara. Coris A4 e dell'Aiele avrebbero dovuto informare i sindacati del trasferimento 25 giorni prima che si fosse perfezionato l'atto di cessione o l'obbligo di procedere alla cessione. Ciò ha lo scopo di consentire al sindacato di conoscere la capacità di gestione del cessionario e le sue intenzioni con riferimento ai piani di investimento, ai programmi produttivi, ai livelli occupazionali e alle condizioni di lavoro assicurate ai dipendenti. Neanche dai verbali redatti al termine degli ultimi incontri, ai quali tra l'altro non hanno mai partecipato congiuntamente ai rappresentanti legali delle due parti, si evince alcun riferimento a piani, programmi e garanzie occupazionali e stipendiali dei lavoratori coinvolti. Pertanto la CGL, riconoscendo in tali comportamenti un palese comportamento antisindacale dei vertici del Consorzio e dell'Aiele, tale da violare un espresso dettato di legge, ha deciso di dare mandato al proprio ufficio legale a tutelare le organizzazioni sindacali per essere informate sul processo in atto nelle aziende e nel caso specifico su quello che deve essere il passaggio del ramo di azienda ad altra società privata.